Il caro Bollette è un problema importante, a San Nazaro avendo la possibilità di gestire in autonomia il gas per i nostri cittadini abbiamo pensato di andare incontro a quelle che sono le difficoltà del caro Bollette mettendo a disposizione un fondo per cui possiamo aiutare tutti i nostri cittadini di San Nazaro, comprese le frazioni cercheremo di gestire questo fondo per un totale di circa 150.000 euro per dare una mano ai cittadini su base ISE l'idea è quella di fare su base ISE e aumentare l'importo di partenza portando almeno a 25.000 euro di quello che è il reddito ISE Per il bonus del caro Bollette verrà stabilito un criterio che è su base ISE indicativamente portato a 25.000 euro i cittadini che ritengono di rientrare in questo criterio dovranno compilare un modulo e aderire a quello che è un bando che stiamo definendo con gli assessorati di competenza per questo bonus caro Bollette per quanto riguarda questo contributo verrà Grazie a tutti